Quello che facciamo oggi è un simpatico esperimento, perché il video che state vedendo non è registrato con la mia solita strumentazione, ma è registrato con la Lumix S5-2X. Nel corso di questo video vi farò vedere, oltre alla qualità video di questa videocamera, le impostazioni che io vado a utilizzare per fare soprattutto video, ma anche foto. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia. Ho in prova la bellissima Lumix S5-2X con un parco ottiche di tutto rispetto, per cui ringrazio tantissimo il team di Lumix e Panasonic per avermi dato questa possibilità. In questo momento stiamo utilizzando il 16-35mm e lo stiamo utilizzando a 35mm, perché è l'unica configurazione che ho trovato che mi permette di sfruttare gli spazi del mio studio senza dover fare grossi sconvolgimenti. Come detto, in questo video vi faccio vedere come imposto la macchina per andare a realizzare foto, ma soprattutto video, però insomma, visto che il menu è uno, alla fine lo guarderemo tutto. Io vi ricordo, per chi ancora non l'avesse fatto, di iscrivervi al canale in maniera tale da non perdervi gli episodi precedenti che ho già fatto su questa strumentazione e i prossimi che usciranno. Per cui il bottone è qui sotto, lasciate anche un like a questo video perché voi non ve ne accorgete, ma il canale dà una grossa mano. Molto bene, eccoci qui con la nostra fotocamera. La prima cosa da fare, ovviamente, accediamo al menu. Come potete vedere, la prima tab ci presenta lo stile foto. Tendenzialmente io uso lo standard, ma poi una cosa del genere non la utilizzo neanche perché tanto poi vado a post-produrre pesantemente le mie immagini a volte, quindi una cosa del genere non mi serve. Modo esposimetrico. Questo è più importante. Qui abbiamo i soliti metodi di lettura. Se vi dovesse interessare come impostare questi modi di lettura, ho un video dedicato con una panoramica generale su come funzionano, quindi non mi dilungherei a vederli qui. Vi dico solamente che io normalmente lo imposto in seconda posizione perché mi trovo meglio e mi dà una lettura più corretta per quello che devo fare. Però dipende da caso a caso e quindi se volete saperne di più vi consiglio di andare a vedere il video dedicato. Formato. Questo ovviamente è molto importante. Noi qui possiamo impostare tutta una serie di formati, tra cui ovviamente il quadrato se dobbiamo lavorare su Instagram, il 2 a 1 se dobbiamo fare cartellonistica o non so che altro, il 16 noni, formato televisivo cinematografico, il 3 mezzi secondo me è quello che dovremmo utilizzare la maggior parte delle volte per fare fotografia perché è quello a sensore pieno. Qualità d'immagine. Ora in questo momento io ho impostato RAW più JPEG Fine. Vi dirò che secondo me la cosa migliore da fare è utilizzare RAW e basta perché così abbiamo il formato della qualità maggiore possibile e insomma possiamo prendere tutta una serie di decisioni in post produzione senza doverci preoccupare di caduta qualitativa. Ora qui ci sono alcune impostazioni come vedete che sono in grigio, sono in grigio perché secondo me questa cosa funziona solamente, infatti la dimensione funziona solamente sul JPEG quindi nel momento in cui io vado a impostare RAW questa opzione è disabilitata. Nel corso di questo video ci saranno alcune voci che non menzionerò per niente, se vedete che non menziono una voce è perché non la uso e la tengo come impostata di default. Riduzione, esposizione lunga, io questo lo lascio off perché se riesco a indovinare che cos'è è una funzione per le pose lunghe che però mi farebbe perdere un sacco di tempo. Impostazione ISO doppia nativa, questa fotocamera ha due ISO nativi quindi qui sarebbe interessante andare a sperimentarli e spero di avere il tempo di farlo, in questo caso io lascio auto perché se io imposto uno dei due ISO nativi a questo punto penso che lasciandolo su auto la macchina sappia che cos'è meglio fare, dovrei andare un pochettino più in profondità e utilizzarla un po' più a lungo per prendere una decisione sensata su questo parametro. Sensibilità ISO foto, qui abbiamo i limiti quindi 100 ISO in basso, chissà se si può espandere perché io so che arriva fino a 50 ISO questa macchina però ci deve essere un'opzione da qualche parte per farlo, anche qui arriva fino a 51.200 ma anche qui io so che c'è un'espansione, deve essere da qualche altra parte però. Ora intervallo dinamico, anche questo io lo tengo off, compensazione della vignettatura, questo vi dirò che l'ho messo on perché è una cosa che aiuta, ormai le compensazioni di questo tipo sulle macchine sono abbastanza progredite quindi possiamo secondo me usarle tranquillamente. Compensazione diffrazione, ma anche questo si potrebbe, eh però non c'è on, c'è solo auto, allora no perché non voglio un parametro variabile. Impostazioni filtro, anche no. Rilevamento autofocus, questo è importante, rilevamento AF on, quindi abbiamo l'autofocus, rilevamento di un soggetto umano, qui abbiamo anche la possibilità di fare la faccia piuttosto che l'occhio, oppure animale più umano. Ora io ho girato il video facendo semplicemente riferimento alla modalità umano, avrei potuto mettere faccia e occhio, sarebbe stato meglio. Qui abbiamo una serie di impostazioni per l'autofocus, vi dirò che io queste le lascio di default perché per gli utilizzi più comuni vanno già bene così. Limitatore della messa a fuoco, no, voglio tutta la gamma. Luce assist sull'autofocus, sì ok, questa la spegnerei se dovessi fotografare lucciole ma per il momento va benissimo così. Peaking lo voglio on, quindi voglio vedere a monitor con un colore dove sto mettendo a fuoco. Spostamento veloce, questo va bene. Modalità flash abbiamo automatico o automatico con la prevenzione dell'occhio rosso, questo direi che non lo tocchiamo. Modalità lampo, TTL, allora io qui preferisco manuale, anche se non l'ho usato, quindi vi dico che preferisco manuale, ma lascia un po' il tempo che trova. Qui regolazioni flash manuale, niente, queste sono cose che vedremmo se avessimo un flash. Bracketing, questo è molto importante. Nel momento in cui andiamo ad attivarlo, vedete che qui abbiamo due cose molto interessanti. Abbiamo il focus bracketing, bellissimo, quindi possiamo andare a impostare il passo, e questo è molto molto interessante, perché abbiamo il passo più il conteggio immagini, poi abbiamo anche la sequenza ma questo importa un po' di meno. Passo più 5, conteggio immagini 11, una cosa del genere noi possiamo impostarla per fare un focus bracketing di tutto rispetto, già impostato in macchina, quindi non la dobbiamo più toccare una volta che l'abbiamo impostato e quindi le immagini saranno perfettamente allineate. Questa è una funzione che sulle macchine che utilizzo normalmente non sempre c'è ed è una cosa che vorrei e qui la trovo fatta molto bene. Nonostante questa sia una macchina che punta più al videomaker che al fotografo, questa impostazione secondo me è fatta molto bene. Abbiamo anche il bracketing per l'esposizione, quindi anche qui vedete che possiamo fare... Qui avrei voluto poterla personalizzare di più, questa cosa onestamente avrei preferito poterla toccacciare meglio, però abbiamo una serie di opzioni che mi consentono di catturare praticamente tutta la gamma. L'unica cosa che un pochino mi dispiace è che per catturare tutta la gamma disponibile devo fare per forza 7 scatti, quindi questa è una cosa che avrei preferito poter gestire diversamente perché io avrei voluto magari farne 5 di scatti, però potendomi allargare su tutta la gamma, invece in questo caso ne devo fare 7. Poco male, la fotografia si fa tranquillamente, ci si porta tranquillamente a casa il risultato. Adesso torno a metterlo su off, altrimenti potrebbe disabilitare qualcuna delle funzioni successive. Modalità silenziosa, se vogliamo lo shutter silenzioso, io questa non la uso mai. Stabilizzazione di immagine, questo è interessante perché qui abbiamo delle opzioni, per esempio potremmo lasciarlo su automatico, io in questo momento l'ho lasciato su automatico, oppure potremmo metterlo off se la usiamo su tre piede. Queste opzioni ci aiutano molto nel momento in cui giriamo delle riprese a mano libera perché la stabilizzazione di questa macchina performa molto bene. Quando attivare possiamo decidere di averla sempre attiva, oppure solo quando premiamo l'otturatore personalmente preferisco risparmiare batteria, quindi va bene così. Stabilizzazione elettronica nel video, io l'ho lasciata on perché aiuta veramente tanto. Boost della stabilizzazione sul video, vi dirò che l'ho lasciata off così come l'anamorfica, queste due cose non le sto usando, non so neanche se consigliarvi di usarle oppure no, fate le vostre prove se avete questa macchina e vedete come rende meglio per voi. Impostazione scatto a raffica, io questa come sapete non la uso, però qui abbiamo la possibilità di decidere se vogliamo una raffica ad alta velocità, media velocità o bassa velocità, è sempre utile poter impostare queste cose. Mentre la seconda opzione è per fare la raffica con l'otturatore elettronico, quindi ovviamente ci sono delle differenze, avremo delle differenze sia in termini di velocità sia in termini di qualità d'immagine. Tipologia di otturatore, ovviamente possiamo scegliere tra meccanico e elettronico, o possiamo anche impostarlo su auto. Personalmente vi dico che io lo sto utilizzando meccanico perché sono abituato così. Abbiamo poi il menu timelapse, qui abbiamo la possibilità di impostare il nostro timelapse in maniera molto approfondita, quindi senza l'utilizzo di un intervallometro possiamo fare dei timelapse di tutto rispetto con questa macchina. Ho trovato questo menu molto ben fatto e ti permette di andare molto in profondità. Qui come potete vedere possiamo decidere se fare ripresa, timelapse o animazione, stop motion, quindi anche qui possiamo decidere in maniera molto approfondita che cosa vogliamo fare. Possiamo impostare l'ora di inizio e il conteggio delle immagini, quindi di conseguenza un intervallo di scatto. Purtroppo non ho ancora avuto modo di provare questa funzione, per cui fatemi sapere in un commento se vi interessa perché se tante persone mi dicono che interessa cercherò di fare un esperimento nei prossimi giorni. Composizione live view e autoscatto, qui possiamo decidere come impostare la modalità autoscatto che troviamo qui sulla rotella. Per esempio io adesso lo imposto su 10 secondi con telecomando e così potrei utilizzare un telecomando che non ho, quindi non lo utilizzerò. Ma passiamo al menu video che forse ci interessa anche di più perché questa è una macchina che non fa mistero di essere un pochino indirizzata al videomaker. Vado anche a impostare la modalità video sulla mia ghiera in maniera tale, vedete che la parte fotografica scompare e adesso siamo sul sistema operativo video. Come potete vedere, prima cosa, modo di esposizione manuale. Ovviamente ci sono le priorità, questa è una cosa interessante perché su molte macchine che utilizzo anche io, sulla modalità registrazione video, le priorità non ci sono. Bisogna andare su modelli molto progrediti per trovarle. Qui invece ci sono, quindi questa è una cosa sicuramente buona. Stile foto, qui di nuovo come detto prima, modalità esposimetrica come detto prima, doppia isonativa l'abbiamo lasciata su automatica, sensibilità ISO video. Ecco, qui vedete che è diversa perché non l'avevo ancora impostata. Qui andiamo a dargli un massimo e un minimo, si era su auto quindi non cambiava niente, ma io per esempio potrei dirgli che non voglio che vada oltre ISO 6400 quando sto utilizzando le modalità automatiche o priorità. In questo modo proteggo il mio video e evito di avere un video con troppo rumore perché gli dico che non deve andare oltre quella sensibilità. Anche qui come potete vedere ci sono delle opzioni che sono in grigio e ci sono delle opzioni che io non ho toccato. Intervallo dinamico non lo tocco, compensazione e vignettatura. Qui è tutto più o meno come prima, quindi direi che anche qui non tocchiamo niente perché non è cambiato nulla. Formato file di registrazione. Questa è probabilmente la parte più interessante di questa macchina perché qui abbiamo veramente i suoi punti di forza. Innanzitutto, come potete vedere, possiamo scegliere tra il formato MOV e Apple ProRes. Quindi io nel momento in cui ho registrato questo video ho utilizzato il MOV perché l'Apple ProRes dà delle prestazioni troppo alte e mi diventa anche difficile da gestire. Quindi ho preferito utilizzare il MOV. Però c'è la possibilità di registrare anche con il codec Apple ProRes. Area di immagine del film. Andiamo a vedere che possiamo scegliere tra APS-C, pixel by pixel, quindi registra i filmati con un campo visivo rapporto 1 a 1 dei pixel in base alla qualità di registrazione selezionata. Non ho provato queste due funzioni perché l'ho utilizzata solamente full. In realtà col senno di poi mi sarebbe venuto comodo provare la PSC perché in questo modo avrei avuto un rapporto lente-sensore che mi avrebbe avvantaggiato nel mio studio. Ma ne parleremo in un altro video. Per il momento lasciamola su full. Qualità di registrazione. E qui è veramente dove casca l'asino. Perché qui guardate quante qualità di registrazione abbiamo a disposizione. Andiamo in ordine dal basso. Il formato più basso che abbiamo a disposizione è un Full HD 420 10 bit. Quindi già non partiamo male. 100 MB al secondo. Andando a salire sempre sui 100 MB al secondo abbiamo un 422 10 bit. Quindi già bello. Questo è un Full HD molto lavorabile. Continuiamo a salire e abbiamo un Full HD a 200 MB per secondo. sempre 422 10 bit. Dopodiché abbiamo un Full HD a 48p. Di nuovo con tutte e tre le opzioni. A questo punto passiamo alle varie modalità 4K. Per cui abbiamo un 4K a 150 MB per secondo. 420 10 bit. 24 frame al secondo. Abbiamo il 422 10 bit. 24 frame al secondo. E poi abbiamo un 422 10 bit online. 400 MB per secondo. Quindi qui vedete che abbiamo la possibilità di scegliere veramente molto in profondità che tipo di file video vogliamo. Abbiamo la stessa cosa con i 48p. Abbiamo il MOV full frame. Quindi in questo caso stiamo registrando video ma stiamo utilizzando appieno il sensore. E qui di nuovo abbiamo tutte le opzioni di prima. e arrivando nella parte alta di questo menu come potete vedere abbiamo praticamente un 6K a 24 frame al secondo. 420 10 bit. 200 MB al secondo. Qui stiamo parlando di formati veramente molto pesanti. Quindi bisogna utilizzare queste modalità con molta parsimonia ovviamente. Vi dirò che dal canto mio io ho utilizzato il normalissimo si fa per dire 4K a 16 noni 24 frame al secondo 422 10 bit. Quindi sono stato un pochettino parco. Qui abbiamo la possibilità di personalizzare il time code. Questa è una cosa che a me non interessa particolarmente. Livello di luminanza lo lasciamo così. Impostazione rilevamento AF. Qui solite opzioni di prima. Rilevamento soggetto. Face high. Qui è esattamente tutto come abbiamo lasciato prima. Peaking è tutto come prima. Quindi non tocchiamo niente. Display livello regolazione audio. Io questo lo voglio sempre on perché quando giro video mi serve. Ingresso audio muto off perché l'audio lo voglio. Guadagno regolazione audio standard. Allora questo io avrei dovuto metterlo basso in realtà invece l'ho lasciato standard. Regolazione livello audio. Come potete vedere qui si può gestire l'audio. Questo qui è il suono della mia voce dal microfono direttamente della videocamera. Ovviamente l'avevo regolato per catturare l'audio dai microfoni mentre registravo la mia voce utilizzando i miei soliti microfoni. Quindi è regolato in base a quello. Avrei potuto anche alzarlo un pochino. Ecco la registrazione aveva un livello più o meno di questo tipo. Limitatore livello audio. Ecco questo avrei dovuto metterlo off. Invece non l'ho fatto. Mannaggia me. Ormai pago. Annullazione rumore vento standard. Presa mic va bene. Qui un po' di opzioni in grigio. Uscita audio real time. Volume della cuffia. Lo regoleremo se avessimo una cuffia. Modalità silenziosa off. Stabilizzazione d'immagine. Come detto prima la lasciamo così. Quindi stabilizzazione elettronica video sì. Ma il boost io preferisco di no. È l'anamorfica no perché non uso lenti anamorfica in questo momento. Impostazioni autoscatto. Anche qui autoscatto per il video. Possiamo attivarlo in maniera tale da far partire il video indifferita. Ma diciamo che ci interessa poco. E queste sono tutte opzioni che ci interessano relativamente. Passiamo al prossimo menu. Qui è pieno di cose. Molte di queste cose io non le tocco neanche. Per cui tutto quello che vedete che non tocco è perché l'ho lasciato di default. E qui passiamo direttamente alla seconda scheda. Qui come potete vedere io voglio l'istogram. Anteprima costante. Instagram. Linee griglia foto. Potrei metterle off ma in realtà a me piace vedere le griglie. Perché mi fa capire come sono messo e mi dà un'indicazione. Miglioramento live view off. Non mi interessa. Modo notte. Questo è molto interessante perché vedete nel momento in cui io lo vado a impostare. L'immagine mi diventa tutta rossa e mi dà la possibilità di vedere meglio durante le riprese notturne. Ovviamente è una cosa che si attiva ogni tanto e poi lo si spegne. Qui abbiamo tutta una serie di opzioni che io non tocco perché non ho un'esigenza specifica. Ma ecco che qui c'è qualcosa di interessante. Vista assistita vlog. Nel momento in cui giriamo in vlog vogliamo la vista assistita perché così capiamo meglio come è esposta la nostra scena e come sta performando. Perché se guardiamo il vlog che è molto grigio non capiamo niente. Qui abbiamo vlog 709. E direi che va bene così perché le altre sono dei set che però bisogna farsi. Quindi lo lasciamo così e se girassimo il vlog avremo una visualizzazione un pochettino più caruccia anche a monitor in modo da capire meglio cosa stiamo facendo. Live view monocromatico no. Questo lo useremo se scattassimo in bianco e nero. Indicatore centro. Questo è carino. Questo sì l'avevo già impostato così. Marcatore zona di sicurezza pure. Questo va bene così. E questo indicatore del centro. E questi sono i marker delle aree di sicurezza. Sono cose non indispensabili. Però a me piace averle. Zebra pattern. Qui abbiamo le nostre impostazioni per la zebra. Io di solito uso zebra 1 più 2. Vediamo se c'è la possibilità di impostarli. Infatti c'è. E io di solito uso 75 e 100. In questo modo so più o meno dove è l'incarnato e più o meno dove sta clippando. Wave form vettroscopio. Questa è una figata pazzesca perché vedete che qui abbiamo... Vedete che cambia? Vedete questo quadratino che cambia? Qui abbiamo il vettroscopio direttamente a monitor. Così come potremmo avere il wave form direttamente a monitor. E anche qui vedete che posso ingrandirlo, rimpicciolirlo. E poi dopo un po' mi dà anche fastidio. Quindi lo vado anche a spegnere dopo. Però è molto bello poter avere queste informazioni a monitor. Questa è una cosa che sulla maggior parte delle macchine che utilizzo regolarmente manca. Ed è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto. Passiamo alle impostazioni di servizio. Qui abbiamo un formatta scheda, funzione slot scheda. Quindi abbiamo due slot e quindi possiamo decidere che cosa fare. Vedete per esempio quando la prima è piena passare automaticamente all'altra scheda. Piuttosto che registrare prima sulla prima scheda e poi sulla seconda. Possiamo personalizzare queste opzioni. Qui abbiamo la modalità per attivare la USB SSD. Quindi nel momento in cui andiamo a connettere una memoria SSD esterna, attiviamo questa funzione e la macchina andrà a rilevare che non deve utilizzare le memory card inserite ma deve andare a cercare un hard disk esterno. Qui cartelle, file, informazioni sul copyright. Allora queste vi dirò, io queste le metto sempre. Qui non l'ho fatto perché questa macchina non è di mia proprietà. Però normalmente io le informazioni sul copyright le metto perché non si sa mai. Risparmio energia. Qui io di solito lo lascio come impostato di default perché di solito va bene. Gestione termica, questo è importante. Tempo massimo di registrazione standard piuttosto che elevato. Quindi abbiamo un minimo di gestione del suo riscaldamento. Frequenza fotogrammi monitor. Io vi dirò che qui francamente lo vado anche ad abbassare. Quindi 60 e 30 lo vado a mettere sul minimo perché così risparmiamo qualcosina. Impostazioni monitor che abbiamo luminosità e colore ma questo non lo tocco. Retroilluminazione monitor, qui possiamo metterlo più o meno forte. Anche qui secondo me auto è la scelta migliore. Sensore occhi, quindi questo è per regolare la sensibilità della fotocellula che va a passare dal monitor all'oculare. Anche questa io la lascio impostata di default. Abbiamo qui un po' di opzioni, quindi per esempio il beep quando andiamo a mettere a fuoco. Queste sono tutte cose molto personali. Volume della cuffia, questo è importante perché se stiamo facendo monitoring, ascoltando il nostro audio in cuffia, vogliamo un volume tale da poter sentire ma che non ci sfondi i timpani. Qui abbiamo le impostazioni wifi, quindi abbiamo LAN, wifi e bluetooth. Non le ho sperimentate, sono convinto che funzionino bene e anzi questa macchina tramite LAN e bluetooth ha la possibilità di streamare. Quindi noi possiamo andare in streaming con questa macchina. Quindi se abbiamo una buona connessione queste sono le opzioni su cui dobbiamo andare a giocare. Vedete che abbiamo la possibilità per esempio di inviare un'immagine su smartphone con anche magari il trasferimento automatico. Insomma sono tutte delle impostazioni che diventano via via sempre più importanti secondo me perché avere le immagini in tempo reale e poterle passare subito a uno smartphone sta diventando sempre più importante e ve ne parlerò anche in un prossimo contenuto perché è capitato anche a me di dover lavorare in questo modo. Poi qui abbiamo salva o ripristina impostazioni fotocamera o a zera che suppongo sia il reset di default. Nel caso abbiamo fatto cappellate, questa è l'opzione da cercare per riportare la macchina come era originariamente. Qui abbiamo impostazioni, orologio, frequenza di sistema. Ecco questa è una cosa interessante perché non è facile da trovare. Quindi normalmente sulle mie macchine io sono abituato ad avere regolazione PAL piuttosto che NTSI. Qui si chiama frequenze di sistema. Non è sbagliato però io non sono abituato a vederlo chiamare in questo modo. Per cui frequenze di sistema noi qui abbiamo NTSI quindi 5994, abbiamo PAL 50 Hz, abbiamo cinema e questo è molto interessante. Quindi qui possiamo impostare su cinema ed è quello che faccio io. In questo modo abbiamo il vero 24 frame al secondo a 24 Hz. Molto molto figa questa opzione, vorrei averla sempre. Qui abbiamo pulizia del sensore, lingua. Come potete vedere l'ho lasciata in italiano visto che non conoscendo il menu non avevo possibilità di confondermi avendolo imparato precedentemente in inglese quindi l'ho lasciato in italiano. Bene, qui sull'ultimo menu abbiamo delle impostazioni personalizzate che non ho mai utilizzato quindi direi che queste le lasciamo anche un po' lì. Modalità di riproduzione. Qui abbiamo tutte delle opzioni per quando andiamo a rivedere le nostre immagini. Quindi per esempio play, presentazione, possiamo ruotare le immagini, classificarle, ingrandire dal punto EIF. Insomma tutta una serie di opzioni che francamente io non uso però nel caso voleste andarle a indagare probabilmente qualcosa di carino c'è. Possiamo andare a ruotare, possiamo separare il film, possiamo riparare un video. Questo suppongo serva in caso abbiamo un file danneggiato. Possiamo andare a eliminare le immagini una per una oppure tutte insieme. Quindi anche questo è importante. Questa è un'opzione che è stata messa qui in fondo in basso probabilmente proprio perché così è facile da trovare. Nel momento in cui sappiamo che vogliamo eliminare tutto sappiamo che l'impostazione è lì. Invece se vogliamo formattare la scheda di nuovo è facile da trovare perché è subito qua. Altre cose che vi faccio vedere. Ah guardate ho lasciato la zebra attiva e infatti lì mi sta dicendo che c'è un'area esposta correttamente. Molto molto bene. Ultima cosa che vi faccio vedere. Le impostazioni per i punti di messa a fuoco. Comodissimo. Con questo bottone e questo selettore io qui vado a premere e qui posso decidere. Quindi per esempio ho il tracking con rilevamento faccia occhio. Ho le impostazioni su tutta l'area. Ho il rilevamento faccia occhio ma solo nel centro. Oppure ho il punto di messa a fuoco singolo che mi è sempre molto caro. Ora una cosa che ho trovato molto interessante. Se io mi metto per esempio in questa posizione e premo il joystick mi torna in posizione centrale. Se io ripremo il joystick mi ritorna in quella posizione. Questo è comodissimo per ballare tra due posizioni. Se magari sto facendo due composizioni differenti il fatto di potermi tenere in memoria queste due posizioni è veramente una figata. E un'altra cosa di cui sono veramente molto contento è questo selettore perché con questo io ho la possibilità di decidere se stare in modalità autofocus singolo, click oppure autofocus continuo, altro click oppure manual focus. Quindi semplicemente con questo selettore ho tutte le possibilità qui a portata di pollice. Non devo più andare a selezionare niente da menu interni perché ho tutto direttamente qui. Questa è veramente una genialata secondo me. Altre cose da farvi vedere. Qui abbiamo il tasto Q. Quindi qui possiamo andare a vedere un po' tutti i parametri con cui stiamo lavorando. è un accesso rapido che personalmente non ho ancora utilizzato perché tanto con tutte queste ghiere io qui ho ghiere dedicate per qualsiasi cosa quindi non ho mai avuto bisogno di accedere a questo menu però è buono sapere che c'è. Dall'altra parte abbiamo il nostro tasto replay con cui possiamo andare. Ecco vedete questa qui è la ripresa che abbiamo fatto prima. Queste sono delle foto che ho scattato nei giorni scorsi e qui possiamo andare a rivedere tutte queste cose. Abbiamo un tasto display qui in basso che serve a ciclare attraverso tutte le impostazioni del display quindi noi possiamo passare da display spento risparmio energia possiamo passare a una visualizzazione normale possiamo andare a una visualizzazione priva di elementi di distrazione qui abbiamo la solita schermata modello reflex per intenderci con tutti i parametri e con i livelli audio vedete fra l'altro che la batteria è quasi scarica quindi questo video volge al termine e non solo per mia volontà che dire amici ci rivediamo in studio per le considerazioni finali su questo corpo macchina. Bene amici come avete potuto vedere bel menu molto vasto ci sono tante cose da impostare ci sono diverse cose che mi sono piaciute molto soprattutto ovviamente nella sezione video perché la sezione video è veramente molto completa mi permette di fare tutto quello che ho voglia di fare mi permette di scegliere veramente nel dettaglio come voglio che sia il mio file video mi permette di scegliere il codec mi permette di scegliere tantissimi formati vero è che non posso farvi vedere proprio tutto perché dovrei collegare un ssd esterna alla fotocamera in questo momento non sono attrezzato per farlo normalmente non lo faccio quindi non non sono attrezzato per farvi vedere anche questa cosa però i formati più professionali di questa videocamera vengono registrati unicamente su memoria esterna ovviamente questo non deve rappresentare un problema perché se abbiamo bisogno di quella roba lì un ssd esterna non è che sia questa spesa clamorosa quindi la prendiamo e lavoriamo in tutta tranquillità ma attenzione colpo di scena è finita la batteria e quindi io lascio a questa bellissima fotografia scattata di recente il compito di accompagnarvi con i saluti di rito vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti lasciate anche un like a questo video e ci vediamo come sempre nel prossimo ciao 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 ciao